Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna code a tratti tra Firenze Nord e il Vivio per la variante di Valico, in direzione Roma code a tratti tra Valdarno e Arezzo e rallentamenti tra Val di Chiana e Chiusi. Ci spostiamo sulla FIPILI dove per lavori in direzione Firenze due chilometri di coda tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest e per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!